Stava lì nel confessionale fino a 16 ore al giorno per portare serenità e gioia a un peccatore. C'erano dei casi in cui non assolviva. E quand'è che non assolviva? Quando il penitente diceva chiedo perdono dei miei peccati. E padre Pio è solo questo? E allora vai via. Perché padre Pio voleva nella confessione la seconda parte, che è la più importante, anche se non espressa, ma almeno nei sentimenti. Chiedo perdono a Dio dei miei peccati e prometto di non peccare più. Se mancava questa seconda parte, questo sentimento di proposito, allora era una confessione di rito. E io non dia solo.